Allora riprendiamo Allora nel progetto che abbiamo appena visto c'è un'altra classe che è vuota che si chiama task service, che ha solo un main, che sarà il nostro punto di ingresso per il nostro server REST Una cosa comoda di IntelliJ è che ha questo tab database in cui è possibile aggiungere un database sia SQLite che di altro tipo e operare direttamente su quel database e vedere cosa succede nel database Quindi per esempio io posso aggiungere adesso come data source un database di tipo SQLite che posso chiamare tasks.db e che avrà un database su file che in questo caso è contenuto dentro il progetto che dovrebbe essere qui quindi src main resources task db Si può provare la connessione se voi non avete mai aperto questa schermata qui sotto vi chiede anche di scaricare il driver necessario a IntelliJ per aprire la connessione verso SQLite Io l'ho già scaricato e quindi non me lo chiede più Una volta premuto su ok qui in questa parte laterale vi compare il database che avete aggiunto con le sue tabelle e per esempio cliccando sulla tabella tasks vedete i task che attualmente sono inseriti nel db con il fatto che siano urgenti o meno e il loro id incrementale e da questo tool potete anche creare una nuova tabella modificare le righe, cancellarle aggiungere colonne e quant'altro quindi giusto per vedere che noi abbiamo 5 task quindi ci aspettiamo di poter richiedere i task da 1 a 5 e quando chiederemo tutti i task riceveremo un elenco di 5 oggetti e inserendoli, inserendo un nuovo task ci aspettiamo di inserire il sesto id di questa tabella questo però adesso lo lasciamolo chiuso allora implementiamo le nostre API REST quindi la prima usiamo lo stesso ordine che abbiamo usato nel Word, nel documento quindi get all task quindi ci serve il metodo get ci serve innanzitutto importare Spark quindi import static spark punto spark punto asterisco e ovviamente prima di importarlo bisognerebbe anche installarlo ma questo me lo sono dimenticato ok, prima di importare Spark dobbiamo aggiungerlo nelle dipendenze del Gradle quindi come abbiamo fatto prima quindi implementation com spark spark core 2.8.0 dopodiché sappiamo perché dovremo trattare dei JSON che ci servirà anche una libreria per il JSON sempre la solita quindi implementation com.google.code.json due punti JSON due punti la versione 2.8.5 che dovrebbe essere l'ultima e verifichiamo che sia tutto a posto e a questo punto tornando nel nostro progetto l'import è andato a posto e possiamo scrivere il nostro metodo get metodo get che lo ripeto per Spark e com spark java 2.spark meno core 2.2.8.0 per JSON e com.google.code.json 2.json 2.285 ce ne manca uno ma lo mettiamo dopo quindi tornando di qui abbiamo il nostro metodo get da scrivere nostro metodo che come abbiamo visto prima ha quei due parametri quindi la url locale parziale da cui a cui fare la richiesta e la coppia d'oggetti richiesta risposta e poi il corpo del metodo get quindi noi qui avremo una url che sarà slash api slash versione 1 slash tasks perché partiamo sul get all task poi avrà la coppia richiesta risposta poi ci sarà una lambda e il corpo del metodo quindi come prima url a cui questa chiamata deve rispondere quindi url che il server espone la coppia richiesta risposta che sono oggetti che arrivano e oggetti che vengono forniti come risposta e quello che farà poi questa funzione che in questo momento ho messo return virgolette virgolette giusto per togliere l'errore perché una get deve restituire qualcosa essendo una get se vogliamo essere precisi dobbiamo aggiungere un terzo parametro tra la url e request response che è il tipo di contenuto che ci aspettiamo in risposta l'accept type che è soprattutto importante quando faremo una post perché ci aspettiamo di fornire un qualcosa in json ma qui si può indicare così lui imposta se viene richiesto sa già qual è il tipo di risposta che ci aspettiamo che in questo caso è un json quindi qui si può aggiungere un terzo parametro che è documentato che non è la root ma che è questo accept type IntelliJ vi suggerisce cosa potrebbe essere e quindi che nel nostro caso è application json perché noi tratteremo json in questo caso fornendoli e non ricevendoli ma comunque li tratteremo a questo punto possiamo implementare davvero il il metodo quindi per implementare il metodo dobbiamo fare diciamo tre cose la prima che è indipendente da rest e dall'applicazione specifica ma è tipica dell'http è impostare il il response code e il response type della risposta quindi implementare i parametri della risposta quindi set proper response code and type come agendo sull'oggetto response che abbiamo appena creato che spark pre popola per noi e ci permette di aggiungere i parametri che vogliamo quindi response che in questo caso si chiama res punto type ci permette di impostare il tipo della risposta e il tipo della risposta sappiamo che sarà application json di nuovo e possiamo anche essere confidenti e iniziare a impostare uno stato della risposta che è il 200k questi sono http content type e status code se questa richiesta va a buon fine ci restituirà un json con stato 200k della richiesta e questa è la prima operazione la seconda operazione è ovviamente prendere tutti i task dal db e la terza operazione sarà preparare i json da restituire quindi prepariamo il response code recuperiamo i task dal db prepariamo riempiamo la risposta con il json contenuto allora come prendiamo i task dal db sfruttiamo il dao di prima il task dao di prima aveva un metodo get all task che faceva una select asterisco from tasks la tabella che abbiamo appena visto quindi semplicemente magari inizializziamolo qui visto che ci servirà task dao chiamiamolo task dao anche la variabile e new task dao quindi a questo punto possiamo dire task dato no task dao punto get all task nessun parametro perché tanto dobbiamo prendere tutti i task questo get all task ci restituisce ci restituisce una lista di task quindi prepariamo memorizziamo questa la risposta in una lista di task che chiamiamo all task e questa è l'unica operazione che dobbiamo fare verso il db prendere i task e memorizzarli in una lista ricordate che nel nostro word dove è finito la nostra risposta che ci siamo immaginata era un qualcosa che iniziava con task uguale una lista di task noi abbiamo già una lista di task presi dal database come oggetti java adesso quello che dobbiamo fare è prendere quella lista di oggetti java e convertirla in una lista di oggetti json e magari possiamo aggiungere questo task davanti come facciamo questo la lista ce l'abbiamo già ci possiamo aggiungere questo task davanti e quindi usiamo una mappa una mappa di stringhe liste di task che possiamo chiamare final json che sarà una nuova per esempio hash map e in questa hash map ci andiamo aggiungere quindi final json punto put che cosa la chiave e il suo valore il suo valore sarà la lista all tasks e la chiave sarà come abbiamo ipotizzato nel nostro esempio una stringa che si chiama tasks adesso quello che vorremmo è prendere questo oggetto java e averlo e averlo di colpo in un oggetto in un testo json dove la lista java diventa una lista json quella chiave diventa la prima oggetto della proprietà e i singoli task diventano singoli oggetti json come lo facciamo sfruttiamo json quindi potremmo sfruttare json in due modi un è il modo rapido e l'altro il modo più lungo il modo lungo sarebbe qui prima del return prendere quella mappa convertirla in un json e restituire il json corrispondente il modo breve è ritornare direttamente questo final json quindi questa mappa quindi ritorniamo dal metodo un oggetto java una mappa java e inizializziamo qui sopra json quindi json uguale new json inizializziamo un oggetto json come abbiamo fatto sempre finora tutte le volte che ne abbiamo avuto bisogno e data l'integrazione di spark con json è possibile alla fine di questo metodo quindi dopo la lambda ma prima della chiusura del metodo scrivere json due punti due punti to json questo automaticamente converte qualunque sia la risposta che viene ritornata da questo metodo in un json se può se è un tipo di oggetto che conosce in questo caso sono mappe è una mappa con dentro una stringa che è capace a convertire in json nativamente con dentro una lista che è capace a convertire in json nativamente perché è un oggetto nativo la lista una lista di task la cui classe esiste nel progetto e ha dei getter quindi è capace a recuperare le informazioni e quindi riesce a convertire tutto correttamente in teoria in json quindi questo è solo un modo più breve invece di mettersi qui a riga 32 e scrivere json punto to json aperta parentesi l'oggetto da convertire in json virgola la classe corrispondente java per effettuare la conversione prendere il tutto in una nuova stringa e ritornare la stringa è solo un modo un po' più veloce ora se noi eseguiamo questo io ho disattivato per un attimo no ho disattivato per sempre in realtà IntelliJ che si intromette fa partire Gradle invece che la console normale e vedete che il progetto parte come vi dicevo prima ma vi da qualche errore perché non riesce a trovare un logger per visualizzarvi le informazioni necessarie quindi aggiungiamo il logger dopodiché il server funziona lo stesso ma aggiungiamo solo il logger quindi nel Gradle aggiungiamo sempre come implementation per esempio slf4j che è quello supportato quindi org.slf4j due punti slf4j meno simple due punti l'ultima versione è la 1.7.26 una libreria di logging nella versione semplice quindi senza particolare feature per quanto riguarda il logging a noi interessa che loghi nella console quindi abbiamo semplicemente aggiunto come implementation org.slf4j slf4j simple nella versione 1.7.26 a questo punto senza modificare niente nel codice rieseguendolo vedete che adesso è diventato molto più chiacchierone e vi dice tutto quello che sta succedendo tra cui il fatto che sta ascoltando sulla porta 000 45 all'indirizzo 000 sulla porta 4567 quindi abbiamo un server in funzione a quell'indirizzo su quella porta che espone se abbiamo fatto le cose per bene un un solo una sola url una sola risorsa all'indirizzo api versione 1 tasks quindi se noi apriamo il browser e andiamo su localhost 4567 lui ci dice correttamente 404 not found perché questa è la root e noi non abbiamo nessuna risorsa pubblicata qui ma se noi andiamo su api v1 tasks vediamo in effetti il nostro json adesso questo è formattato perché chrome lo formatta se no sarebbe un unico un lungo file di un unico testo che sta su due tre righe e il nostro json è esattamente quello che ci aspettavamo c'è quel tasks che è la chiave della nostra mappa c'è una lista una lista di oggetti e ogni oggetto è il nostro task con id descrizione e il campo urgente e sono 5 esattamente come 5 che sono nel nostro db ora facciamo la stessa cosa per recuperare un singolo task invece che tutti e 5 ovviamente il nostro codice per recuperare un singolo task sarà molto simile a questo perché è sempre una get quello che cambia è che beh innanzitutto avremo bisogno di chiedere al db solo un task non tutti ma ci sarà un metodo nel DAO che ci fornisce questa funzionalità e poi l'altra cosa ci servirà recuperare l'id direttamente dalla url qui invece non agivamo sulla url non ci interessava perché non dovevamo prendere nessuna informazione allora facciamo fatemi copiare e incollare questo così partiamo da questo stesso metodo allora la prima cosa come vi dicevo è dobbiamo cambiare la url relativa non dovremo più pubblicare solo api v1 task ma dovremo pubblicare questo con un id allora in spark qual è il modo per indicare che un oggetto in quella url è in realtà una variabile qualcosa che può cambiare può essere recuperata dall'interno del codice è due punti id quindi due punti indica che quello che segue è una variabile un qualcosa che si può recuperare e id è il nome che date voi a quello specifico a quella specifica variabile potreste chiamarla come volete due punti nome della variabile allora cosa facciamo facciamo così cosa facciamo beh prima di tutto a differenza di prima allora prima cosa abbiamo fatto prima abbiamo detto dammi una get su tutto e come prima operazione abbiamo impostato il response type e il response code in maniera ottimistica perché abbiamo detto sicuramente ci sarà il db e sicuramente ci sarà qualcosa nel db o quantomeno ci sarà il db e quindi possiamo restituire un ok perché noi restituiamo tutto quello che c'è nel db magari il db è vuoto però la url funziona e trova gli oggetti e quindi abbiamo detto impostiamo ottimisticamente un 200 ok per tutto qui se vogliamo fare un pochino di più precisi non possiamo fare la stessa operazione non possiamo dire qualunque richiesta avrà un 200 ok perché io se faccio una get all'id 49 e ne ho solo 5 di id nel database mi se non agisco sapendo che potrei ricevere questo errore a un certo punto mi trovo un'eccezione perché non riesco a fare una select con il d49 non ho risultati da quella select e quindi non so più cosa trovare e quindi in quel caso per esempio potrei restituire un 404 perché quel singolo task non è stato trovato quindi la prima operazione che qui facciamo è invece recuperare il task dal database quindi ci prepariamo un oggetto di tipo task che chiamiamo task che utilizzando il task DAO come prima recupera non tutti i task ma solo un task quale? quello specificato dall'id che passiamo nella url quindi quell'id lo recuperiamo dall'oggetto richiesta che viene passato a questo metodo c'è l'oggetto risposta ma c'è anche l'oggetto richiesta nell'oggetto richiesta ci sono anche le variabili che servono quindi da request che qua si chiama solo rec .params ci sono tutti i parametri e nel nostro caso ci interessa un parametro che è il parametro 2.d ora questo ci dà errore perché request.params restituisce una stringa essendo un pezzo della url non sa che cosa sia è sicuramente una stringa e getTask vuole un intero quindi per risolvere l'errore convertiamo la stringa in intero quindi per esempio usando integer .value off la stringa da convertire in intero ok? a questo punto possiamo fare quel controllo che dicevamo prima se non c'è il task se c'è il task lo restituiamo se non c'è diamo un 404 per esempio allora per come è fatto quel getTask se non c'è se il task non è trovato viene restituito un oggetto null quindi basta chi dire se task è null 404 come possiamo dare 404 per esempio possiamo darlo col metodo alt il metodo alt vuole uno status code in questo caso può essere 404 ma può essere anche 500 può essere un altro status code e blocca questo metodo non va avanti a proseguire non prosegue con questo metodo in ogni caso blocca la richiesta perché se siamo qui sicuramente non ci sarà nient'altro che possiamo fare se diamo un 404 non è stata trovata a questo punto se non siamo in questo caso possiamo procedere come prima quindi possiamo creare possiamo impostare il response type e il response status possiamo di nuovo riutilizzare la nostra mappa di final dove ovviamente non avremo più una lista di task ma avremo un singolo task in questo caso nella risposta e qui possiamo aggiungere solo task e ritorniamo final json allora una cosa che si fa tipicamente nelle API rest è comunque mantenere la struttura alla mappa chiave equivalente valore quindi prima avevamo task anche per simmetria rispetto alla richiesta dell'intera collezione prima avevamo task e la lista dei task adesso abbiamo task e il singolo task da restituire in modo che anche il client abbia un modo uniforme lo sviluppatore che sviluppa il client che deve interrogare queste API che deve consumare queste API abbia un modo uniforme di gestire le API sa che nei get si troverà sempre una chiave l'equivalente di una chiave e poi l'oggetto a cui è interessato e questo completa l'altro get adesso ci manca poi lo proviamo ci manca la post ci manca l'aggiunta di un nuovo task allora in maniera simile prima come c'è il metodo get c'è anche il metodo post anche il metodo post vuole una un path una url che nel nostro caso è simile a quella del primo metodo API view1 tasks anche questo avrà una request e una response esattamente come l'altro e avrà poi una lambda esattamente come prima e anche questo richiede seppur una post non preveda un return richiede che ci sia un return altrimenti vi da errore che cosa dobbiamo fare qui dobbiamo prendere la richiesta il corpo della richiesta che sarà l'oggetto task da aggiungere fare l'insert nel database ed essenzialmente basta quindi come recuperiamo il corpo della richiesta beh abbiamo l'oggetto request che ha dei parametri ma anche un eventuale corpo della richiesta quindi request che si chiama rec punto body contiene al suo interno il corpo della richiesta che noi ci aspettiamo sia un json a questo punto però è un json questo sarà una stringa dobbiamo convertirla in un oggetto java perché dobbiamo recuperare i campi description e i campi urgent se ci sono e quindi possiamo sempre per praticità come abbiamo fatto le altre volte convertire questo body in una mappa quindi chiamiamola add request e utilizziamo json per convertire da json che cosa questa stringa secondo secondo una mappa in questo caso se tutto va bene abbiamo un corpo della richiesta che è quello che abbiamo definito prima quindi quindi un oggetto che ha description e la cosa da fare urgente è un numero che si mappa benissimo su una mappa java chiave valore chiave valore quindi se va tutto bene in questo oggetto add request avremo una mappa con due campi uno che si chiama description che ha come valore la description e uno che ha come chiave urgent che ha come valore o 0 o 1 allora qui dobbiamo ovviamente controllare che tutto sia andato bene quindi che innanzitutto add request sia diverso da null e poi non solo dobbiamo controllare che ci siano tutte le informazioni che ci servono quindi che ci sia una chiave che si chiama description e una chiave che si chiama urgent quindi che add request contenga la chiave che si chiama description e che add request contenga la chiave che si chiama urgent almeno poi se volessimo potremmo controllare che in description ci sia una stringa non vuota e che nella chiave che in urgente ci sia o 0 o 1 e non 15 perché non sappiamo come parsificarlo 15 come trattarlo però diciamo che così ci ci può soddisfare data anche l'ora e a questo punto cosa dobbiamo fare? dobbiamo recuperare il valore di description il valore di urgent e inserirlo nel database quindi avremo un oggetto che è una variabile che è string description che conterrà add request get get the description che è la chiave ovviamente convertito in stringa perché la mappa è generica e ci piacerebbe avere un intero che si chiama urgent che contiene add request punto get di urgent allora in questo caso per avere l'intero dobbiamo fare due cose prima di tutto dobbiamo convertire questa double e poi prendere il valore intero da quell'oggetto con int value a questo punto abbiamo i due campi e possiamo tramite task DAO usare il metodo add task che richiede un nuovo task e quindi è sufficiente creare un nuovo oggetto di tipo task con parametri description e urgent a questo punto se siamo arrivati fin qui possiamo preparare una response con uno stato 201 quindi oggetto creato e se invece non siamo entrati in questo if quindi se la richiesta è nulla oppure non c'è description oppure non c'è urgent possiamo di nuovo fare un alt questa volta con il 403 perché non è not found e la richiesta malformata in questo caso come vi dicevo non si ritorna a niente anche perché non si ritorna alla risposta HTTP quindi non c'è un body essendo una post e non ci serve convertire niente in JSON non essendoci un corpo della risposta ora se noi eseguiamo questo dovremmo innanzitutto vedere che questo task continua a funzionare dovremmo vedere che se scriviamo 3 in effetti recuperiamo il task con i d3 e in teoria se scriviamo 345 vi restituisce 404 not found il browser lo trova lo intercetta ma è un HTTP error 404 non è una pagina bianca con scritto 404 è solo il response code 404 non ha risposta perché noi l'abbiamo fornita noi una risposta testuale perché noi comunque dobbiamo assumere che non è detto che quest'API o l'API REST vengano consumate da un browser potrebbero essere consumate da un'applicazione da command line potrebbero essere consumate da un software che quindi non vede la risposta ma si basa sulle risposte HTTP necessarie quindi in questo caso riceve un 404 e non gli interessa che ci sia un documento HTML con scritto 404 perché l'informazione la recupera dalla risposta HTTP se noi invece vogliamo assumere che ci sia comunque un qualcosa che visualizzi queste risposte allora potremmo in aggiunta fornire anche un JSON con scritto 404 not found con scritto error 2.404 not found è un qualcosa che possiamo fornire in più semplicemente andando a aggiungere una risposta di formato JSON per esempio al nostro metodo l'insert ve lo lascio provare a voi o fidatevi che funziona in questo progetto c'è una cartella che si chiama JSON dove ci sono due JSON uno che si chiama new task e uno che si chiama wrong task che è un task solo con la description senza l'urgent e delle istruzioni che utilizzano CHURL per fare la creazione di un nuovo task usando questi due oggetti quindi eseguendo prima una e poi l'altra riga nella stessa cartella in cui ci sono questi file JSON e col DB e col server acceso dovreste nel primo caso inserire con successo un task e nel secondo caso entrare nell'errore dell'ultimo dell'ultima API che abbiamo costruito questo chiude la lezione di oggi questo codice come il solito ve lo metto su GitHub questa settimana ci vediamo giovedì anche alle 9 del mattino credo in cui continueremo a lavorare con Spark e proveremo con Spark a fare qualcosa per consumare queste API quindi non solo creare adesso le abbiamo create costruiamo un'applicazione web di qualche tipo per utilizzare queste API per fare qualcosa se avete domande sono ancora qui tempo di smontare tutto altrimenti buon appetito grazie a tutti grazie a tutti